Bene, allora io vi disturbo un attimino perché abbiamo una sorpresa per i nostri sposi. Abbiamo praticamente una bravissima violinista, abbiamo fatto quasi 200 km per stare qui. Io ve la presento, si chiama Maria Grazia. Facciamo io un applauso tutti insieme. E sognarà naturalmente tra tutti voi e naturalmente anche in onore degli sposi di cui vorrei un altro applauso da guardare tutti. Facciamolo! Bene, allora, non mi dilungo molto, vi faccio ascoltare le dolci note di questa splendida violinista. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!